Sì, è zitto! Non voglio più sentire neanche una parola, ha capito? Zitto! Ma lei deve anche accettare la salute e me ne vado. No, ma Presidente... Vuole che me ne vada? No! Adesso mi tolgo il camice! Mi tolgo il camice e lo do a lei, va bene? Vuole che me ne vada? No! Vuole il camice? No! Stia zitto! Non è che si va mettere a discutere con il professore? È un professore, un professore di stirpe, non è che si è inventato la voce al dono. Se sa quello che deve dire. No, io cerco la risposta, sì, sì, per l'ultima volta. Va bene, però la prossima volta mi alzo e me ne vado. Va bene.